Ciao ragazzi, prima di iniziare questo video, volevo dirvi che questo video rilassante di questa sera è sponsorizzato da In-In, che mi ha gentilmente inviato la sua crema per il collo, prodotti che come sapete ho già detto e provato, questa crema per il collo la provo già da qualche settimana, ha un profumo stupendo, vi volevo dire che per acquistarla se vi va c'è un codice sconto Amazon, profumatissima ragazzi, che vi metterò in infobox e il link che vi porterà direttamente all'acquista, se siete interessanti, grazie per l'attenzione, a seguire mi rilassarò con i dici totalmente, totalmente rilassate, buona visione, prima che io te lo metta in testa, ce li hai i soldi per pagarmi questo trattamento magico, questo è un trattamento speciale, ce li hai i soldi? La carta di credito con te dietro ce li hai, se non hai i contanti possiamo pagare col post? Apri il portafoglio e fammi vedere se c'hai i soldi, non mi fido, una volta che ho messo il prodotto non te lo posso togliere, Quanti soldi che hai con te? Che ci fai con tutto col denaro? Hai capito la signora? C'ha 500 euro con sé Mai nessuno ti aveva detto fammi, aprimi il portafogli, fammi vedere i soldi? Io lo devo fare, ho prodotti che costano tanto Poche gocce ti vengono a costare sulle 250 euro, io ne dovrò mettere un po' di più, quindi arriviamo intorno alle 320-350 euro Un capello migliore rispetto a quello che hai adesso, che ripeto fa proprio cagare Dovresti fare questa uscita di denaro oggi, ok? Che dici, la portiamo al lavaggio? Usiamo lo spray? Allora vale la pena consumare acqua per questa? No, 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 stai lì seduta, non dobbiamo andare al lavaggio, no? Mamma mia, guarda, non vedo l'ora che tutto ne vada di cuore Poi, dimmi un po', qual vizio di cambiare costantemente parrucchiera te lo sei tolto? Vedo che quello di non prendere un appuntamento non l'hai tolto, mentre invece quello di cambiare costantemente parrucchiera l'hai tolto? Ma... Di un po', la doccia l'hai fatta questa mattina? Si sente un odore un po' strano che prima nel mio studio non c'era Che c'hai a questi capelli? Che cavolo ti sei fatto? Ma non vedi che sono tutti svibrati? Mamma mia Ma poi te li pettini i capelli la mattina, la sera, prima di andare a dormire Che cosa fai a questi capelli? Grazie a tutti Mi compañero è tornato Mi miembutto Mi miembutto E nee Capitazione E' bello questo gel, questo. Guardami, sono andata proprio fondata. Jessica, guarda là che sta arrivando. Hai visto chi c'è? Sta là fuori dalla vetrina. Guarda di là, guarda di là. Vuoi scommettere che non è qui per prendere un appuntamento, ma è qui per farsi tagliare o farsi fare la piega adesso ai capelli? Io ci scommetto tutto quello che non ho. È sicurissimo. Aspetta, aspettiamo che entra, vediamo. No, guarda. Assurda, una maleducazione proprio micidiale. Certa gente proprio non la sopporto. Ma sì, lei fa tutte le volte così, ogni benedetta volta. Non chiama, non chiama, non avvisa, non fa un cavolo di niente. Non fa niente. Poi, viene, non è che mi puoi dare una spunto, viene. Ciao. Ciao, bentornata. Dimmi se sei qui per un appuntamento. Tesoro, devi prenotare quando vieni qua. Non è che puoi andare avanti così. Bisogna avere rispetto. Un po' di rispetto per il lavoro di una parrucchiera. In generale, per qualsiasi lavoro, eh? Non è che vieni qua e pretendi che io ti faccia la piega ai capelli o addirittura il taglio ai capelli senza essere prenotata. Tra l'altro, io potrei anche fare i capelli, però devo vedere un attimino come sto messa con gli orari. Che dici, glieli facciamo? Senti, io fra un'oretta c'è un'altra persona, dobbiamo sbrigarci, dobbiamo essere veloci, dobbiamo essere rapidi, ok? Perché tra un'ora c'è un'altra persona a cui devo fare i capelli che si è prenotata un mese fa, a differenza tua. Che sei maleducata e non ti prenoti e pretendi che ti venga fatto il capello quando ti svegli la mattina tu. Va bene? Assolutamente io non sono maleducata, io guardo la realtà dei fatti, la guardo in faccia e la espongo altrettanto in faccia alle altre persone. Quando pretendete che vi venga fatto un lavoro solo perché pagate e pretendete che vi venga fatto subito, a me date alla testa e mi date anche su qualcos'altro. Sinceramente mi fate scendere anche altro. Comunque, vediamo questi capelli come stanno messi. Girati, girati, mettiti seduta e fammi vedere i capelli come stanno messi. Allora mi dai il permesso o sei troppo povera per pagarti questo servizio? Posso? E che sono questi capelli? Che ciaia questi capelli? Che cavolo ti sei fatta? Ma non vedi che sono tutti sfibrati? Mamma mia, ma poi te li pettini i capelli la mattina, la sera prima di andare a dormire? Che cosa fai a questi capelli? Ma sono rovinati? Cioè hai quel barbaro coraggio di presentarti qui senza appuntamento con i capelli? Con questi capelli del genere? Ti presenti qua così? Matteo, nemmeno l'acqua dell'urdo farà un miracolo qui. Nemmeno l'acqua santa dell'urdo farà un miracolo qui. Guarda, guarda come stanno rovinati questi capelli, guarda. Sono condizioni? Io non so che dire di questi capelli, non so che dire. Dico... Che schifo questi capelli tutti sfibrati. Qui dobbiamo fare un piccolo miracolo. E lo sai che li dobbiamo tagliare, vero? Li dobbiamo tagliare per forza. Non stare a credere che puoi andare con quei capelli così rovinati. Sai che i capelli sembrano quelli? Meglio che non te lo dica. Aspetta, vado a prendere un po' di forbici. Aspetta noti. Come? Non vuoi che li tagli? Che cosa pensi che io debba fare a questi capelli, scusa? No, no, no. I tuoi capelli sono rovinatissimi. Sono pieni di nodi. E tra l'altro io mi rifiuto anche come parrucchiera di trattare una cosa del genere. Ok? Quando vedo i capelli così rovinati mi viene lo schifo. Non ho nemmeno voglia di farli, i capelli, a certa gente. Poi dimmi un po'. Quel vizio di cambiare costantemente parrucchiera te lo sei tolto? Vedo che quello di non prendere un appuntamento non l'hai tolto. Mentre invece quello di cambiare costantemente parrucchiera l'hai tolto? Ah, tu vai dove capita? E lo sai che io sparo prezzi come capita, vero? Eh sì. No, non è mai sempre lo stesso taglio. No. Non è mai sempre lo stesso prezzo per il taglio, per la piega. Cambio. Cambio a seconda della faccia di chi ho davanti. Semi simpatica. O meno. Che dici, la portiamo al lavaggio? Usiamo lo spray? Allora, valeva bene consumare acqua per questa. No, 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 stai lì seduta. Non dobbiamo andare al lavaggio, no? Mamma mia, guarda. Non vedo l'ora che tutta ne vada di cuore. Devo cercare di aggiustare lo schifo. Che è qui? Ok. ma qua bisogna tagliare tutto si ti vado a tagliare solo le punte ma qua bisogna tagliare tutto questi capelli sono da prendere proprio da tagliare completamente dovresti portare corti dovresti tenere proprio corti corti questi capelli non sono capelli tuoi da portare lunghi ma cosa pensi? che ti farò un taglio decente pagherai oro e ti farò un taglio di merda si 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 certo e i tuoi capelli vanno trattati così come fai un po' tu con noi barrucchiere e ti presenti in studio senza prenotare improvvisati gli appuntamenti improvvisati saranno anche i tagli dammi l'altra ciocca vediamo l'altra ciocca vediamo l'altra ciocca l'altra ciocca no non fare caso non fare caso non fare caso non fare caso proprio i tuoi capelli onestamente non li vorrei proprio versai non fare caso non fare caso tieni sempre a mente che hai dei capelli orribili e non fare caso come ti ho detto prima guardare i tagli degli altri non fare caso no 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 è inutile che ti vai a scegliere i tagli sul telefono o guardare i tagli dei capelli delle tue amiche i tuoi capelli non possono i tuoi capelli non possono avere alcun taglio decente ok? assolutamente no non possono avere alcun taglio perché hai i capelli proprio tutti arruffati brutti non li pettini neanche c'è proprio che schifo che schifo ma guarda un po' che capelli ha ma questi sono capelli senti facciamo una cosa si facciamo una cosa allora ascoltami io adesso andrò ad utilizzare un olio andrò ad utilizzare su di te un olio ristrutturante un olio magico è un elisir che ti risana i capelli immediatamente il problema che hai tu è proprio grave proprio grave cioè io mi vergognerei ad andare in giro con quei nodi con quei capelli sfibrati tagliati una volta ogni morte di papa cioè sia chiaro sto usando questo prodotto su di te ma sia chiaro il prezzo è notevole poche gocce ti vengono a costare sulle 250 euro io ne dovrò mettere un po' di più quindi arriviamo intorno alle 320 350 euro ma se vuoi avere una un capello migliore rispetto a quello che hai adesso che ripeto fa proprio cagare dovresti fare questa uscita di denaro oggi ok? sì miracolo te lo posso fare con un prodotto che ho qui a portata di mano sì olio per capelli non senti? ho detto olio per capelli non hai mai usato un olio per capelli tu? e che cosa usi? non usa niente sì hanno un prezzo molto elevato i prodotti che uso io e sono prodotti che uso veramente raramente perchè nessuna si presenta nelle condizioni in cui sei tu qua sinceramente nessuna nessuna sei da far paura allora allora mi dai il permesso? o sei troppo povera per pagarti questo servizio? posso? va bene intanto vado a ripettinare la zona che ho tagliato questa zona qui e vado a fare un'altra leggera aspetta aspettiamo un altro po' vado a fare un'altra leggera spuntatina ok? stai ferma non ti muovere stai ferma stai ferma cosa è che non capisci? la testa deve stare dritta non così o così dritta allo specchio punta del naso di fronte allo specchio così 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 ferma santa pazienza santa pazienza aiutami tu ok andiamo di qua andiamo di qua e poi hai fatto 8000 tinte sotto questi capelli si vedono 3000 colori ma non ti vergogni ad andare in giro così ma che razza di capelli sono questi? li devo buttare tutte a terra completamente e mi sto trattenendo dal farlo ok ok allora i capelli adesso stanno stanno quasi asciutti io adesso vado a spruzzare quest'acqua che va messa prima dell'olio del trattamento che sto andando a fare ok? perché quest'olio va messo sui capelli bagnati ok ok mamma mia che pazienza oggi con questa dio mio non ti volevo manco tagliare i capelli quindi onestamente io non ma di un po' la doccia l'hai fatta questa mattina si sente un odore un po' strano che prima nel mio studio non c'era e sei entrata tu e adesso c'è magicamente allora allora io vado a mettere una qualche goccia di questo olio e ti ricordo prima che io te lo metta in testa ce li hai i soldi per pagarmi questo trattamento magico questo è un trattamento speciale ce li hai i soldi la carta di credito con te dietro ce li hai se non hai i contanti possiamo pagare col post apri il portafoglio fammi vedere se c'hai i soldi non mi fido una volta che ho messo il prodotto non te lo posso togliere si sto aspettando vediamo apri 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 il portafogli i portafogli quanti soldi che hai con te che ci fai con tutto col denaro hai capito la signora c'ha 500 euro con sé mai nessuno ti aveva detto fammi apri il portafogli fammi vedere i soldi io lo devo fare ho prodotti che costano tanto mica posso rischiare io di mettervi cose che costano in testa e poi di sentirmi dire non ce la faccio con i soldi perchè voi volete fatte belle senza appuntamento per altro però poi non volete pagare non rispettate la gente fate tutte un po' così insomma ecco siete tutte un po' viscide sì 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 quelle come te chiaramente un po' viscide cosa? l'ho messo un po' troppo? dici che ingrassa la collega dice che ti possa che ti posso ingrassare troppo i capelli non ti preoccupare no non ti preoccupare non ti preoccupare no stai serena quando li laverai poi non ci sarà nulla di che no 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 vedi adesso i tuoi capelli sembrano essere tornati di un unico colore il primo sotto già avevi 8000 colori e sono più brillanti la frangia? hai fatta la frangia? facciamo sta frangia che poi in realtà è solo da corciare ok ok resta ferma ok ma no 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 io non mi devo assolutamente scusare per averti detto che vediamo se c'hai i soldi nel portafoglio non mi devo assolutamente scusare per averti chiesto se ci avessi con te soldi non mi devo assolutamente con te scusare di averti chiesto se c'avevi con te soldi nel portafoglio e di farmeli vedere perché io i prodotti li pago tantissimo e non mi fido della gente quando gli dico che costano a volte capita che poi mi senta dire oh ma io non sapevo costassero così tanto oh ma io non sapevo ma io pensavo no ragazzi quando vi fate fare un trattamento speciale all'oro va pagato d'oro ok specialmente per chi come te ha questi capelli orribili inguardabili che io ho salvato perché oggi io ti ho salvata a te sì adesso li dobbiamo asciugare però non farmi perdere troppo tempo perché io dopo ho un'altra signora molto elegante molto fine la prossima signora che verrà dopo di te nulla a che vedere con te nulla a che vedere ok adesso è ci faremo qui ci sul rabello ci sono che vediamo il non il non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, perché ti devo mettere la lacca adesso? No, stai bene così, ferma, ti ho già peso oro addosso. No, no, no. Allora, la spuntatina te la faccio pagare 35. Ok. Ti faccio uno sconto. Allora, abbiamo detto che abbiamo utilizzato questo olio, un olio incredible, incredible, vedi? Incredible oil. Già la parola stessa lo dice, quindi è incredibile l'effetto, quindi è incredibile anche il prezzo. Allora, ho utilizzato molte gocce perché comunque il trattamento andava fatto per bene e quindi siamo sui 3,50. direi che la piega che viene a costare solo 15-20 euro, nel tuo caso te la posso offrire, visto che mi sono pagata già lo spray e il taglio. Io la piegata la posso offrire sono 350 euro, più 10 di spray sono 360, più 35 di taglio sono 3,95. Ti posso fare lo sconto di 5,95, ti posso fare lo sconto di 5 euro, in totale abbiamo 3,90 euro. In totale abbiamo 3,90 euro. Prezzo finale scontato, scontato, però è chiaro che ho allargato poi i prezzi pure. Bene, ce li hai i soldi per pagare, giusto? Me li hai fatti vedere prima, e allora che cosa aspetti a pagarmi? Ok, a non rivederci allora. Ciao.